Sì, dovevamo essere più cattivi, era girato tutto bene che avevamo rimesso a posto la partita subito all'inizio del secondo tempo, quindi dovevamo creare qualcosa in più che non siamo riusciti a farlo. Con i tre centrocampisti veri dall'inizio, nel senso tre centrocampisti di ruolo, 3-5-2, poi 4-3-1-2 nel secondo tempo, la cosa positiva di questa serata è che non si sono viste più quelle imbarcate se non quei 3-4 minuti del secondo tempo, ma lì c'è anche forse, credo, la giustificazione perché c'erano due centrali che non avevamo mai giocati insieme e in mezzo sono stati imbucati. Alla fine perché noi volevamo vincere, siamo sbilanciati un po' troppo, loro erano tutti dietro, ripartivano in contropiede, però alla fine grossi pericoli non li abbiamo subiti, però insomma dovevamo fare qualcosa in più per cercare di vincere sicuramente. Soprattutto dal punto di vista della qualità lì davanti nel secondo tempo? La qualità davanti, abbiamo fatto giocare tutti quelli che erano disponibili. Sì, ci abbiamo provato, non abbiamo trovato gli spazi, dovevamo trovare uno spazio perché loro erano molto chiusi, però non siamo riusciti a trovare lo spazio per raddoppiare. Contento della giornata? Contento, contento che finalmente c'è stato un po' più di equilibrio, ma però insomma volevamo vincere, volevamo vincere, è andata così, ci prendiamo questo punto e poi adesso pensiamo all'olbia. Drudi e Ingrosso hanno provato già da ieri, era diciamo impossibile rischiarlo? Era difficilissimo, era difficilissimo, poi i ragazzi hanno fastidio, non erano pronti, quindi ha esordito in campionato Veroli che ha fatto un'ottima partita, gli faccio i miei complimenti. L'ultima da parte mia è la voce ufficiale della società sulla non convocazione di Valdifiori e Galano, soprattutto quella di Galano ha fatto molto rumore. Un rumore, ha già spiegato il mister in conferenza ieri, Galano ha avuto prima mal di schiena, poi mal di testa, ha avuto dei problemi e lui non l'ha convocato. Ci crediamo? È chiamato il ragazzo, altrimenti direi che c'è stato un problema e non è stato convocato. Il ragazzo ha avuto prima mal di schiena, poi mal di testa e il mister ha deciso di non convocarlo. Questa è quella reale poi. Faccio una domanda da studio per il DS Matteassi, metto un attimino il telefono a disposizione, solo un attimo, prego Massimo. Sì, assolutamente è piaciuto l'equilibrio, finalmente, perché la Pescara non ha sofferto di transizioni negative, purtroppo era una costante all'inizio del campionato, avrebbe potuto e dovuto fare di più, questo è poco ma sicuro, però la domanda la fa naturalmente Fabio Ferraresi al DS Matteassi. No, io al direttore volevo chiedere se, in virtù del fatto che comunque c'era superiorità numerica e avevamo provato a cambiare qualcosa in fase offensiva, si aspettava che magari il Pescara creasse qualche occasione in più, soprattutto nitida, perché poi le occasioni che sono venute fuori sono state frutto di un po' di confusione, un po' di arrembaggio. C'è stato poco attacco alla profondità con i tempi giusti rispetto al modulo con cui proviamo a sfondare, secondo me. Certo, hai ragione, però deriva dal fatto anche che loro erano tutti dietro, a loro stava bene, tra virgolette, il pareggio, 10 contro 11, ripartivano in contropiede e quindi l'attacco alla profondità era difficile, dovevamo fare qualche cross in più magari per Ferrari, visto che avevamo messo dentro una prima punta, però è vero, è vero, come ho detto prima, siamo riusciti a pareggiarla subito e quindi si era messa sulla strada giusta, dovevamo essere più cattivi e creare qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Un'altra domanda, poi il direttore Matteassi ci deve salutare. Benissimo così, Enrico, va benissimo così. Allora, faccio io proprio l'ultima al direttore sportivo Matteassi per chiedere quanto il Pescara ci crede ancora all'aggancio alla prima posizione, perché l'obiettivo dichiarato era quello, però manca da troppo tempo la vittoria e manca il segnale del cambio marcia. È vero, è vero, manca il segnale, bisogna, bisogna, a parte che manca il segnale, bisogna fare un filotto di vittorie, l'ho detto. Ma ci crede? Conto, è certo che ci crediamo, cioè, noi se ci mettiamo più cattiveria, più fame, trovando i giusti equilibri, come si è detto, basta fare un filotto di vittorie e alla fine sei lassù, però, cioè, le parole le porta via il vento, come sempre, bisogna fare le vittorie senza tante chiacchiere.